In principio era il colore, un omaggio a Franco Summa che testimonia il suo forte legame con l'Abruzzo e l'Aquila. L'anteprima della mostra è presentata al Maxi, un percorso espositivo che non coinvolgerà solo la sede di Palazzo Ardinghelli, ma anche gli spazi dell'emiciclo e della Fondazione Giorgio De Marchis. La mostra è curata da Maria Alicata. L'omaggio a Summa nasce in collaborazione con l'omonima Fondazione. Abbiamo davvero voluto rendere questo omaggio ad un grande artista abruzzese, così come abbiamo fatto anche l'anno scorso con Marcello Mariani e ancora l'anno prima con Ettore Spalletti. L'abbiamo voluto fare nello stesso modo come con Mariani, cioè distribuirlo all'interno della città. e quindi le altre due sedi sono il Consiglio regionale d'Abruzzo e la Fondazione Giorgio De Marchis, con cui collaboriamo molto spesso. Anche per restituire questa dimensione urbana, questo legame con la città, che era la particolarità del lavoro di Franco Summa. L'abbiamo voluto però concentrare su questa idea del colore, di come lui considerasse il valore sociale e comunitario proprio del colore. Partendo da qui, dove siamo adesso, nella project room del Maxi, e poi appunto andando nelle altre due sedi. Il focus sottolinea alcuni passaggi del percorso dell'artista attraverso un'esposizione pensata per restituire la varietà e la complessità del suo linguaggio, dai lavori studio degli esordi degli anni Sessanta, caratterizzati dall'essenzialità formale e cromatica, agli interventi sugli ambienti urbani, ridefinite tramite operazioni cromatiche e partecipative.